Eccoci di nuovo qua zia. Oggi che storia ci racconti? Non lo sai. Che storia ci racconti? C'era un gruppo di bambini che giocavano, tutti che giocavano, e i genitori dicevano non fate lì, non state lì. Ma perché fumate tanto? E allora si è messo a dire, uffa uffa sono fumatore. Fumano i ricchi e fumiamo anche noi. Fumiamo anche noi, così. Uffa uffa che fumatore. Fumano i ricchi e fumiamo anche noi. Fumano i nostri padri ma noi no. I nostri padri non fumano mai. Fumano i ricchi e i nostri padri non fumano mai. Uffa uffa sono fumatore, uffa uffa sono fumatore. Fumano i ricchi e i lavoratori. Ma nostro padri non fuma mai. Fumano i ricchi e i nostri padri non fissi e i nostri padri non fissi e i nostri padri.